Per ricordarne l'impegno, il lavoro e soprattutto per quanti sono mancati a seguito della pandemia da Covid-19. Una giornata per dire grazie a chi ormai da un anno è in prima linea nella lotta alla pandemia. Lo scorso 20 febbraio così è stata celebrata la prima giornata nazionale dei professionisti sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e del volontariato stabilita con la legge del 3 novembre 2020. La data scelta è quella in cui un anno fa all'ospedale di Codogno fu identificato il primo caso italiano di Covid-19, il paziente 1. Ricordo che i medici sono oltre 326, sono intorno ai 330 che sono venuti a mancare per questa pandemia insieme a molti altri operatori sanitari, in particolare infermieri e gli operatori sanitari in genere. Molti i passi in avanti fatti in un solo anno, uno su tutti l'avvio della campagna vaccinale, iniziata proprio dagli operatori sanitari, ma a livello nazionale si è anche aperto un dibattito sui medici che non vogliono vaccinarsi. Da una parte il medico, come tutti i cittadini, poiché la vaccinazione è in questo momento volontaria, il medico può scegliere se vaccinarsi o meno perché è una scelta volontaria, come dicevo, e quindi può anche rifiutare la vaccinazione. D'altra parte il medico non è solo un cittadino ma è anche un medico. E quindi il medico, soprattutto se convenzionato o dipendente, deve pensare, è vero, alla propria salute e alle proprie esigenze, però deve anche mettersi al servizio della comunità. Quindi in questo caso non vaccinarsi potrebbe rappresentare un bonus importante per la collettività, perché il medico che dovesse ammalarsi, dovesse infettarsi e non essendo vaccinato potrebbe diffondere la malattia nei propri assistiti.